Io sono Mauro Larussa, sono un professore associato presso l'Università della Calabria, sono un geologo, precisamente un petrografo applicato. Le mie tematiche di ricerca si focalizzano su diversi aspetti e su diverse tematiche che riguardano la diagnostica e la conservazione del patrimonio culturale. In particolare, i risultati di queste ricerche hanno permesso di risolvere diverse problematiche che riguardano la conservazione del patrimonio costruito, mediante la messa a punto di nuovi prodotti e nuovi protocolli per quanto riguarda il restauro di questi ultimi e allo stesso tempo la loro valorizzazione. Negli ultimi anni la mia ricerca si è anche concentrata su quello che è il patrimonio archeologico ubicato in ambiente marino e proprio in questa direzione l'anno scorso mi è stato finanziato uno è un progetto europeo all'interno delle azioni Manicure in Rice, di cui sono coordinatore. Questo progetto prevede la partecipazione di un totale di 10 partner, 5 enti pubblici e 5 enti privati a livello europeo appunto delle aziende e un partner di un paese terzo, ovvero l'Argentina. Il progetto, chiamato Tectonic, è focalizzato sulla messa a punto di nuovi prodotti e nuove strategie, nuovi protocolli per quanto riguarda la conservazione e la valorizzazione di diverse tipologie di patrimonio archeologico posizionati in ambiente marino. In particolare sono stati scelti tre diversi siti, uno in Calabria, uno in Grecia e uno in Argentina che saranno un vero e proprio laboratorio sperimentale in cui saranno sviluppate le nostre ricerche. Questi risultati hanno un diverso impatto sulla società a diversi livelli, sicuramente a livello sociale, in quanto grazie ai risultati che si raggiungeranno si avrà una maggiore consapevolezza dei cittadini di quello che è l'enorme patrimonio storico-artistico che ogni paese ha. E allo stesso tempo, dal punto di vista industriale, sarà possibile mettere a punto per la prima volta dei prodotti capaci di essere applicati direttamente in ambiente sommerso.